Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale come state vedendo dagli ultimi video vi sto portando alcuni ospiti particolari perché? Perché sono tutti italiani che stavano viaggiando in giro per il mondo abbiamo coperto tutti i continenti ma in qualche caso sono rimasti sia bloccati nel loro paese ma in alcuni casi sono rimasti bloccati nel paese dove stavano viaggiando ed è, diciamo, molti di voi già lo conoscono uno di questi è appunto Lorenzo Barone Ciao Lorenzo Ciao Che è rimasto bloccato in Russia, nella Yakuzia, si dice così giusto? Ero in Siberia bloccato e ho deciso di prendere un aereo e venire in Yakuzia quindi adesso sono in Yakuzia, sì Ma sei andato lì perché faceva meno freddo o perché hai trovato un posto dove stare? Il posto dove stare, la ragazza che ha i genitori che hanno il posto dove stare Ok, quindi hai trovato un posto tranquillo e sicuro dove passare questa quarantena anche perché mi spiegavi prima, io non lo sapevo, che cambiando regione tu devi passare tot giorni in un posto senza uscire prima di poter ritornare alla vita, tra virgolette, normale, giusto? Sì, comunque anche chi è libero non può andare in teoria dove vuole anche se la gente comunque in questi piccoli villaggi stanno tutti in giro e sono pochissimi quindi non è che stai al centro di Roma e ti passi i contagi facilmente stanno tutti distanti perché il posto è grande e sono poche persone e tra 14 giorni, cioè 14 giorni in Yakuzia, adesso sono 5 giorni che sto qui e poi qualche giretto qui lo posso anche fare Ok, anche perché adesso lì sta arrivando tra virgolette la stagione bella dopo un inverno lungo che dura tanti tanti mesi dove fa freddissimo arrivano i giorni più belli dell'anno, sta partendo la primavera quindi mi diceva per esempio Witz che è un altro ragazzo con cui ho parlato che si è fatto da Lugo a Vladivostok in moto lui mi diceva sì però adesso sarà difficile tenere la gente chiusa in casa perché dopo così tanti mesi la gente vuole anche uscire quindi tu adesso stai vedendo gente che esce perché non ce la fa più in casa o cosa sta succedendo? Raccontaci un po' No, le persone comunque o vanno al lavoro o comunque hanno chiuso gran parte dei negozi ci sta solo l'alimentare e la farmacia però magari piccoli lavori comunque continuano a svolgersi quindi c'è gente comunque che si muove ma ancora qui è parecchio tranquillo Yakusk è la città più fredda del mondo io sono a 70 km a sud di Yakusk accanto al fiume Lena sono a un chilometro e niente poi spallo neve ancora qui è pieno di neve passo le giornate a montare gli ultimi video di tutto il viaggio che ho fatto e a spallare neve quindi movimento un po' lo faccio e poi tra 10 giorni quando scadono i 14 giorni dell'isolamento posso andare in un altro appartamento e lì sto come se fosse casa mia finché non passa questo periodo tra l'altro tu quando è scoppiato il lockdown che è stato molto tardivo in Russia, giusto? tu non hai saputo subito che c'era il lockdown, giusto? perché eri in una zona dove non prendeva il cellulare se ricordo bene sì, io stavo con la ragazza con cui sto qui adesso stavo sul lago Baikal stavamo trainando delle slitte sul lago ghiacciato e lì non c'è connessione, non c'è niente dopo 6-7 giorni 6 giorni che non avevamo connessione né contatti con persone perché non vedevamo nessuno siamo arrivati a un piccolo villaggio sperduto nel mezzo di niente la strada principale da quel villaggio erano tipo 200 km una cosa del genere e tanto anche lì c'era il microfono che diceva dell'allerta del virus di stare in casa e tutto quanto il microfono attaccato al supermercato e ovviamente tanto tu non capivi niente perché il russo non lo parli quindi eh no, però lei lo parla sei stato fortunato di avere un traduttore istantaneo quindi adesso tu lo dicevamo anche prima non hai ben presente quanti giorni avrai da passare lì in Russia perché di fatto il lockdown è iniziato da poco quindi si sta evolvendo la situazione hai già un piano in mente per ritornare in Italia e se sì come farai ad attuarlo che strada seguirai? ma adesso non ho proprio idea di quanto duri la situazione può durare per me anche un anno perché non ho idea qui è tranquillo c'è il bosco se fossi stato chiuso a che ne so a Nuova Delhi in India sarei diventato matto però qui sto comunque più libero anche se devo stare in casa non c'è il traffico di fuori il casino cioè sto tranquillo e poi c'è la ragazza qui quindi sto tranquillo sto bene direi che sia stato io sì sto tranquillo mi sono sfogato per tutti i mesi questa è la pausa dopo chilometri e chilometri al freddo e tutto quanto quindi mangio bene esatto per tornare in Italia come farai però? se tu sei a 7 ore di fuso orario di distanza non so quanti migliaia di chilometri come farai tornare? sono circa 8000 chilometri penso in linea d'aria non sono sicuro però è un problema che non mi pongo fino a due settimane fa non sapevo neanche che venivo a Iacusk quindi adesso la mia bici è a 3000 chilometri da qui io sono di nuovo a Iacusk dove un mese fa ho fatto auto stop per sbrigarmi con il visto russo che adesso invece è scaduto perché si è rinnovato cambia tutto ogni poco quindi non faccio più piani spallo la neve e basta esatto non ti preoccupi nemmeno tanto sei super sereno sì un giorno alla volta non c'è problema ma tra l'altro ti faccio una domanda che è una mia curiosità ma penso che anche molti che hanno aperto questo video sia una loro curiosità ma in Russia esattamente una volta che cioè tu hai la percezione perché sei lì presente sul territorio è sentita come emergenza cioè la stanno vivendo come una vera emergenza e secondo te la stanno vivendo bene o male cioè sono preoccupati oppure sono abbastanza sereni ma in questo villaggio sperduto non non vedo nessuno tranne ogni tanto sento una macchina che passa ma se no niente quando ho preso l'aereo da Irkutsk da Irkutsk a Irkutsk quasi tutti con le mascherine ma non tutti sembrava abbastanza tranquilla come cosa mi hanno detto chi viene da Mosca per esempio deve indossare no deve indossare deve stare 14 giorni in quarantena da Mosca e da San Pietroburgo se fanno spostamenti o altro e se non ho capito male anche se entri a Mosca in treno o a San Pietroburgo quando arrivi a un certo punto che entri nella città credo che ci siano dei problemi non so per quarantena o altro però non è più strada aperta e vai dove vuoi ok ti faccio un'altra domanda che ho fatto a tutti gli italiani che sono stati bloccati all'estero diciamo che all'inizio di tutta questa quarantena di tutta questa situazione c'è stato un po' l'additare gli italiani come gli untori nel senso che tu eri nel mezzo dei ghiacci nel mezzo della Siberia quindi non potevi saperlo però gli italiani erano visti un po' in tutto il mondo come quelli che stavano spargendo il virus che avevano sparso il virus in tutto il mondo tu in quanto italiano o comunque in quanto cittadino straniero perché di fatto tu lì sei uno straniero sei stato mai trattato in modo differente oppure hai visto dei comportamenti un po' diversi in quanto tu eri italiano prima che arrivasse la ragazza che ho fatto quattro giorni in bici sul lago un giorno stavo sulla riva del lago che era uscito dal ghiaccio avevo montato la tenda sulla terra sulla sponda è passato una di quelle barche con le eliche che slittano sul ghiaccio alla velocità della luce c'era un gruppo di turisti mi sono passati davanti e mi hanno chiesto da dove venivo che facevo dove andavo in inglese appena gli ho detto Italia hanno fatto tipo oh coronavirus coronavirus così però era spero quasi per scherzo e poi dopo mi hanno chiesto se ero lì per isolarmi dal mondo dal virus e altro però non so se facessero proprio sul serio però comunque mi ha dato un po' fastidio certo vabbè immagino va bene quindi allora Lorenzo tu sei in una situazione tranquilla sei sistemato sei a posto e come dicevamo anche prima stai montando video perché dovrebbe essere già online sul tuo canale giusto questo video solo il trailer però sarà anche online e lo troviamo sul tuo canale anche il video di questo documentario completo presto tra poco uscirà il video completo di tutta la traversata da Magadan fino a Iacusk in autostop fino al lago Baikal e poi il lago Baikal in bici in bici 40 km a piedi 120 km con la ragazza e poi sono tornato qui a Iacusk dove c'era un mese prima appunto e adesso è un'altra avventura completamente diversa da quello che ho fatto prima ok allora vabbè poi di questa avventura ci racconterai un'altra volta sicuramente quando tornerai in Italia ci toccheremo e ce la racconterai nel frattempo andate a dare un'occhiata al video lo trovate qua sotto in descrizione così come i social di Lorenzo anche la piattaforma GoFundMe per sostenere i suoi viaggi che sono completamente folli prima di salutarci ci dai qualche anticipazione sulla tua prossima pazzia che farai? ma tante idee ho il tempo della quarantena per pensarne un po' però ho tante idee e cerco di farle un po' più carine ok va bene Lorenzo allora a noi non resta che seguirti siamo sicuri che ci stupirai ci farai vedere qualcos'altro di folle che nessuno ha mai fatto sempre a freddo o magari al caldo non lo so lo scopriremo solo seguendo Lorenzo e quindi ti saluto ti mando un abbraccio e ti do la buonanotte perché ancora sta roba che siamo a sette fusi di distanza a me manda male però un salutone Lorenzo grazie ci vediamo in Italia presto speriamo dai ciao ciao a posto super professionali tra l'altro avete visto quanto è stato professionale Lorenzo che ha acceso la luce del monitor davanti messa bianca per far sì che si vedesse meglio cioè una roba grazie a tutti